Buonasera e bentornati al TGR Amatrice. Ci scusiamo per i rumori che forse sentite nel sottofondo, ma Amatrice è un cantiere aperto e quindi abbiamo fatto anche una passeggiata per andare a vedere un po' cosa succede nei dintorni. Vediamo qualche immagine. Buonasera e bentornati al TGR Amatrice. La TGR Amatrice nasce a seguito della consegna al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, da parte del Comune di Amatrice, di un documento che ha evidenziato le criticità che rallentano e spesso ostacolano la ricostruzione e le relative soluzioni. L'intento del primo cittadino, Antonio Fontanella, è quello di ragionare su diversi e importanti temi insieme agli altri sindaci del Centro Italia. L'evento in questo momento è ancora in corso e dunque ne renderemo ampiamente conto nelle prossime ore, sempre su Teleradio Amatrice. Amatrice sostiene la candidatura della Transumanza, patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Domani e domenica le vie della Transumanza, due giorni dedicati a questa nostra antica e importantissima tradizione. L'iniziativa è organizzata dal Comune di Amatrice con la collaborazione di molte associazioni del territorio ed è patrocinata dalla Regione Lazio. Si comincia domani mattina con un convegno, una mostra e un laboratorio di disegno per bambini. Appuntamento alle nove al Polo del Gusto e a seguire pranzo del pastore presso i ristoranti che hanno aderito all'iniziativa. Sono previste attività anche nel pomeriggio, mentre nella giornata di domenica si terrà la rievocazione storica della Transumanza durante la quale accompagneremo il greggio dallo stazzo di Cardito fino alla fine di Corso Umberto con una sosta presso la casa della montagna del CAI di Amatrice che proprio domenica festeggia la chiusura dei lavori. Pranzo del pastore quindi presso il parcheggio del centro commerciale Il Corso, musica e balli popolari per tutto il pomeriggio. L'intero programma è disponibile sempre su Radio Amatrice e sulla nostra pagina Facebook. Il Corso, musica e balli popolari per tutto il pomeriggio. Il Corso, musica e balli popolari per tutto il pomeriggio. Il Corso, musica e balli popolari per tutto il pomeriggio. Il Corso, musica e balli popolari per tutto il pomeriggio. Parliamo oggi delle consulte. Ne abbiamo parlato con il Vice Sindaco Massimo Bufacchi. Buonasera, ancora due parole sulle consulte comunali. Consulte che, come dice la stessa parola, permettono ai cittadini di dare dei pareri e di offrire delle opinioni al Comune. Nel programma elettorale della lista che poi ha espresso il Sindaco, il Consiglio Comunale e i consiglieri di maggioranza era presta l'attivazione di un certo numero di consulte proprio perché si ritiene e non è soltanto una idea nostra ma ormai si sta diffondendo un po' dappertutto nei Comuni che più strumenti di partecipazione si danno ai cittadini, più si permette ai cittadini di esprimersi e più sostanzialmente la cosa pubblica viene gestita in maniera democratica. Una volta deciso che il Consiglio Comunale è stato preparato, definito ed approvato in una seduta consigliare il regolamento per le consulte. Il regolamento ovviamente non ce lo siamo inventato, abbiamo ricalcato regolamenti di altri Comuni un po' più avanti di noi, però comunque può essere modificato perché per noi è la prima esperienza quindi abbiamo bisogno di sperimentare questo funzionamento ed eventualmente apportare dei cambiamenti. Per questo motivo, proprio per questo, anche se nel regolamento sono previste più di dieci consulte si è deciso di partire per vedere come vanno le cose con tre consulte una sulla tutela artistica dei beni culturali, una sul turismo ecosostenibile e di qualità ed una sulle problematiche delle frazioni e dei borghi rurali. La consulta non è un organo decisionale, è un gruppo di cittadini che si unisce perché ha degli interessi comuni analizza un problema, fa una proposta al Consiglio, il Consiglio la può accettare o non accettare se non l'accetta deve giustificare il perché e se il Consiglio affronta un argomento per il quale è previsto che ci sia una consulta, informerà prima la consulta stessa. Dal punto di vista pratico abbiamo ricevuto una ventina di domande, non sono poche, non sono tante soprattutto le domande hanno riguardato un interesse per le problematiche delle frazioni. Ovviamente quando avremo attivato più consulte contiamo di ricevere più domande e tra l'altro qualcuna delle domande ricevute già riguarda consulte per il momento non previste ma che prevederemo di far partire a breve. Comunque siccome è una cosa che come tutte quando parte può presentare difficoltà, inconveniente e incomprensioni abbiamo votato per fare proprio una riunione, la teremo il 29 pomeriggio probabilmente presso l'AreaFood per ascoltare le osservazioni di chi è interessato a partecipare e fornire chiarimenti o ricevere suggerimenti. A livello di squadra il consigliere delegato ai rapporti delle associazioni, quindi anche con consulte è per Giuseppe Monteforte, io in quanto vice sindaco darò una mano e poi c'è un volontario che è Paolo Scialanga che ha partecipato fin dal principio a questa esperienza e che continuerà a darci una mano. Quando saremo a regime poi le consulte hanno anche un rapporto diretto con i consiglieri in carica dei singoli argomenti. Per esempio sulla cultura, dal momento che Alessio Serafini è consigliere delegato alla cultura, la consulta sulla cultura interroguirà con lui. È un meccanismo che non è semplice, anche perché spesso le persone preferiscono criticare piuttosto che impegnarsi. Impegnarsi significa lavorare, lavorare significa comprendere, comprendere significa impegnarsi, è una specie di circolo virtuoso che dovrebbe permettere ai cittadini di Amatrice delle frazioni di entrare in maniera più approfondita e comprendere meglio i problemi e aiutarci a risolverli. Grazie. Matru, emozioni che rivivono. Anteprima del Festival ad Amatrice, domani alle ore 18 presso il Polo del Gusto con i suoni della Laga. Orchestra di campane, campanacci, alberi sonanti. Gran concerto diretto da Ambrogio Sparagna con ospiti in doccio e il gruppo folkloristico Matru. L'evento a cura del comune di Amatrice è patrocinato dalla Regione Lazio, direzione generale per lo spettacolo dal vivo. E domenica prossima, come dicevamo, nell'ambito del servizio dedicato alla transumanza ci sarà la festa di fine da lavori della Casa della Montagna del Club Alpino Italiano, realizzato con il contributo di Ampas. Dopo i saluti dei rappresentanti di CAI e Ampas e delle istituzioni previsti per le ore 10, ci sarà la visita dell'edificio e la dimostrazione di arrampicata sportiva. Alle 12 arriveranno quindi i figuranti delle vie della transumanza, appunto con il gregge, concludendo così la mattinata. L'inaugurazione della Casa della Montagna è prevista per il prossimo 27 ottobre. E sono tornati a trovarci gli amici del Masci, il movimento adulti scout cattolici italiani con l'iniziativa Insieme Si Fa. Sabato scorso a Colle Magrone sono rimasti con noi per l'intero pomeriggio con giochi e canti nell'ambito del progetto Il Masci per Amatrice, un gruppo di persone che hanno scelto di dedicare il loro tempo libero a questa comunità e che fanno ormai da tre anni a questa parte. Sempre sabato ad Accumoli le pietre e la memoria, il patrimonio culturale del territorio di Accumoli tra presente e futuro, a cura dell'associazione Radici Accumulesi. Un territorio, quello di cui si è parlato sabato scorso, che è quasi un tutt'uno con il nostro, come ha detto il professor Carlo Virili, nel corso del suo intervento dal significativo titolo di Frammenti di Identità Picena. Alessandro Betori, anche lui archeologo funzionario della soprintendenza di zona, ha scelto per il suo intervento un titolo altrettanto significativo, disecta membra il recupero delle macerie tra tutela e prospettiva di valorizzazione. Numerosi altri interventi hanno impreziosito il convegno, tra gli altri quello di Monsignor Luigi Aquilini, che ha parlato dei recuperi e della messa in sicurezza dei beni mobili e immobili della diocesi, mentre Federica di Napoli ha fatto un puntuale resoconto della sua attività di recupero dei beni mobili e delle messe in sicurezza degli affreschi nelle numerose chiese dove si è trovata ad operare nel territorio. La stessa di Napoli era stata da Matrice lo scorso luglio, dove aveva tenuto per noi una conferenza molto approfondita sullo stesso tema, insieme al consigliere Alessio Serafini, delegato alla cultura e all'architetto Brunella Fratoddi. Alcune, alcune ovviamente no, allora queste fanno abbastanza bene, è questa del Dominozzi, che questa è perfettamente l'intera, la successiva, che invece non c'è, la successiva c'è... Siamo all'angolo dello sport dove Marco Buonasorte ci racconta della Matrice Calcio. Si è conclusa domenica scorsa alle 17.30 circa la partita Matrice Vicovaro. La partita è iniziata, siamo andati in vantaggio alla mezz'ora con il nostro centravanti, i bomberciogli. Il nostro portiere capitano ha parato un altro rigore all'incirca la metà del primo tempo. Al quarantaseiesimo, quindi al primo minuto di recupero, arriva il pareggio del Vicovaro, mentre i nostri ragazzi sono andati in vantaggio all'inizio del secondo tempo con Scardaoni, mentre arriva un pareggio, possiamo dire, scandaloso, con un rigore inesistente al novantaduesimo del Vicovaro, il pareggio del Vicovaro. Abbiamo sentito per questa partita il nostro allenatore Romeo Bucci e il nostro capitano Yuri Pantarotto. Vediamo. Allora mister, la partita della vergogna. L'arbitro è stato quello che poteva essere? I pensieri? I pensieri sono proiettati a due episodi del primo tempo. Il primo è il rigore loro che lascia il tempo che trova perché il mio difensore sta con il braccio attaccato dal corpo e il rigore è stato bravissimo, poi Pantarotto ha parato. Poi c'è stato un altro episodio su una palla indietro dal difensore loro che l'ha preso il portiere con le mani e quello è punizione tutta la vita però. Il secondo tempo abbiamo trovato il gol del vantaggio, abbiamo difeso pure bene, abbiamo fatto i cambi, ho cercato di portare a casa questa vittoria e non ci siamo riusciti. Comunque sì, al di là degli episodi dell'arbitro che poi da pure 6 minuti di recupero che sono eccessivi, secondo me la squadra ha risposto bene, hanno giocato con grinta, con il palla, hanno adottato quello spirito giusto. Io avevo detto prima della partita di giocare col coltello Fredenti, l'hanno fatto contro una buona squadra perché poi ci sono anche gli avversari e non è che... Quindi diciamo che sono contento per la prestazione, un po' meno per i risultati, è normale. Siamo con il nostro capitano e portiere Yuri Pantarotto. Allora, Yuri anche oggi hai parato un altro rigore e possiamo dire che sei stato l'uomo partita perché in più occasioni hai salvato il risultato. Sì, vi ringrazio, ho parato un rigore ma era soggettiva la cosa comunque. Abbiamo giocato molto bene, sapevamo di incontrare una squadra molto forte e preparata, però ci siamo comportati bene, siamo andati in vantaggio due volte, purtroppo ci siamo fatti riprendere nei minuti finali del primo e del secondo tempo. È andata così e niente. Si è giocata anche la prima partita della Coppa Italia Promozione. I nostri ragazzi hanno giocato contro lo Sporting Montesacro presso il nostro stadio comunale, il Pari di Etilesi. È arrivata quindi anche la prima vittoria del campionato per 3-0. I nostri ragazzi hanno vinto con la doppietta di Pezzotti ed il gol di Cirelli. La partita di ritorno si giocherà invece mercoledì 2 ottobre 2019, ovviamente, sempre alle 15.30 presso il campo sportivo di Montesacro a Roma, in via Valerio Flaco 41. Invidiamo per chi potrà ovviamente partecipare anche a questa competizione. Ed insieme alla mascotte di Radio Amatrice, Figaro, vi annunciamo anche che la prossima partita di campionato si giocherà questa domenica, sempre in casa, presso il nostro campo comunale, il Pari di Etilesi, contro una rivale storica, possiamo dire, della stagione passata, che è il BF Sport. Tutta la popolazione, ovviamente, è invitata a partecipare per sostenere la squadra nel nostro fortino. Pensate, da quando siamo tornati a giocare sul Pari di Etilesi non abbiamo mai perso una partita. Quindi sostenere la squadra è fondamentale. E per questa edizione del TGR è tutto. Grazie per essere stati con noi e buona serata a tutti voi.